I presidenti del Consiglio regionale della Giunta, Mauro Laus e Sergio Chiamparino, hanno ricevuto a Palazzo Lascaris i fratelli Martin e Bernardo Matteis. Ai due atleti sono state consegnate le targhe con la medaglia della Sacra di San Michele per la loro attività sportiva, grazie alla quale, lo scorso 19 settembre in Galles, l'Italia si è laureata campione del mondo di corsa in montagna. Bernardo, qual è il significato sportivo di questo successo? Ma il significato sportivo è che è stato un traguardo difficilissimo da raggiungere perché l'atletica di per sé è già veramente difficile, dura, impegnativa, la corsa in montagna soprattutto perché ci vuole tanta tenacia, ci vuole allenamento quotidiano. Il significato è di riuscire a superare i propri limiti umani ma sempre logicamente restando nella legalità, nel senso facendo sport pulito e quindi usando solo la forza delle proprie gambe. Martin, quali altri significati può avere questa impresa sportiva? Lo dico con un detto che ci ripetiamo spesso noi nella nostra lingua che è che vorrebbe dire correre non è solo vincere ma se corri hai già vinto. Già riuscire a correre e correre forte è una vittoria in sé, poi come se uno arriva primo o più indietro l'importante è correre.